Ho scelto una musica dei Florence De Machine che parla della fine di un periodo buio per la protagonista. Il ritornello dice che i giorni bui sono finiti e quindi adesso bisogna ripartire. La voglia è quella di cercare di trasmettere in questa etiografia la nostra voglia di ripartire, di lasciare alle spalle un periodo che non è stato facile, così come non sarà facile la ripartenza. Però chiaramente se ci mettiamo l'energia e la positività riusciremo magari appunto a venirne fuori prima. Now we will do a choreography and the choreography must be very positive, energy to feel to start again, again. After this very difficult moment we want to start again. L'atteggiamento è quello dei bambini che scalpitano perché vogliono uscire, vogliono divertirsi e ripartire. Like a children, so smile, happy. Ok, this is the mood of the choreography. Stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under bed. She killed it with kisses and from it she fled. With every bubble she sank with a drink. And washed it away down the kitchen sink. The dog days are over. The dog days are done. The horses are coming so you better run. Run fast for your parents run run fast for your mother, run fast for your father. Run for your children, run for your sisters and brothers. Leave all your loving you're longing behind. You can carry it with you if you want to survive. The dog days are over. The dog days are down. Can you hear those answers? You're the temple. Grazie a tutti